buongiorno a tutti lettori di cam oggi incontriamo una una persona che fa parte di una categoria molto in difficoltà gli ambulanti ci ci racconti chi sei e qual è il problema reale questo momento buongiorno a tutti io sono gornati francesco sono un ambulante e come tanti ambulanti abbiamo una grandissima difficoltà nel poter gestire le nostre situazioni non possiamo lavorare ci sono state delle proroghe molto lunghe addirittura si parla fino al 3 maggio e tutti la tutta la categoria degli ambulanti purtroppo è veramente a rischio innanzitutto siamo stati dimenticati da tutti nessuno parla di noi ma soprattutto ci sono centinaia anzi migliaia di famiglie che hanno delle grosse difficoltà ma abbiamo dato dei dati in lombardia ci sono 15 mila ambulanti all'incirca siamo un 15 mila ambulanti quindi è una categoria molto importante del settore tra food e non food in teoria dovremmo coprire il 35 37 per cento del pil della lombardia questo solo per quanto riguarda la lombardia siamo rimasti completamente come l'ultima ruota del carro non siamo in grado di lavorare siamo tutti fermi dal 3 marzo e chiediamo chiediamo sostegno chiediamo aiuto ai nostri politici chiediamo aiuto ai comuni chiediamo che si faccia qualcosa per ritornare a lavorare ecco in questo momento hanno aperto alcuni mercati coperti coperti hanno aperto alcuni mercati coperti a torino a varese a como con un'entrata e un'uscita non solo ma se non vorrei sbagliarmi ma torino hanno aperto anche dei mercati già all'aperto all'aperto transennati con un'entrata e un'uscita per il momento solo per quanto riguarda genere alimentare appunto appunto ti fermo un attimo perché il problema è la logistica cioè ho parlato con uno di categoria e mi ha detto che bisognerebbe fare delle transenne percorso obbligato è un po' difficile questa cosa oddio se non è così tanto complicato nel senso che se il comune ci aiuta noi siamo in grado di aiutare il comune di conseguenza una transennatura anche con delle strisce bianche e rosse fra una transenne e l'altra per non impegnare tantissimo il trasporto delle delle varie protezioni siamo disposti a mettere dei paletti davanti ai banchi in modo che la distanza fra le persone sia da noi tra noi e il banco di un metro anche un metro e mezzo se necessario siamo disposti a lavorare muniti di guanti di mascherine chirurgiche metteremo anche a disposizione tranquillamente gli igienizzanti direttamente al banco se una persona deve toccare qualcosa prima si igienizza le mani ci sono tante soluzioni che si possono trovare ricordiamo che non stai parlando come solo come francesco ma hai una chat in cui siete collegati siamo collegati in una chat siamo oltre 300 ambulanti della lombardia la chat si chiama insieme ne usciamo e man mano si stanno aggiungendo sempre tantissimi altri ambulanti e quello che vorremmo oltre ad avere ambulanti della lombardia vorremmo avere anche ambulanti di tutte le regioni d'italia per vedere la situazione che in questo momento che stiamo vivendo è una situazione veramente pesante esiste un'associazione di categoria per gli ambulanti ce ne sono tantissime di associazioni di categoria ma a quanto sembra non stanno facendo quasi niente o perlomeno dico quasi perché qualcuno si è mosso ma non ha avuto assolutamente nessun ascolto ci hanno abbandonati in parte le associazioni di categoria in parte i nostri politici in parte i nostri comuni tutti siamo diventati l'ultima ruota del carro noi vogliamo lavorare noi dobbiamo mantenere le nostre famiglie che cosa gli diamo da mangiare i nostri figli se non ci fate lavorare è grave è grave nell'immediato secondo te quale sarebbe la soluzione di aprire mercati con una logica seria con una logica seria transennamento dell'area mercatale possono cominciare subito immediatamente al più presto possibile gli alimentari che sono nella minoranza diciamo così per vedere come si può evolvere la situazione nel momento in cui la situazione nel momento in cui va bene la situazione si capisce qual è il sistema da usare esatto e tutte le persone vanno in comune accordo eccetera eccetera inseriamo noi che siamo l'ottanta e passa per cento del mercato come merceologico abbigliamento eccetera eccetera però non è giusto che sia alimentari che merceologico rimangono completamente fermi dobbiamo cercare di fare qualcosa ci dovete ascoltare sottolineiamo siamo Cugiono siamo tutti e due Cugiono giornalista e l'ambulante ma non stiamo parlando di un problema di Cugiono stiamo parlando di un problema molto generale e complesso esatto un problema che riguarda tutta la Lombardia tutte le regioni d'Italia tutte le regioni d'Italia sto parlando di tutte le regioni d'Italia quindi solo in Lombardia ci sono circa 15 barra 18 mila ambulanti per un rispettivo di 40 mila persone che vivono perché ogni ambulante ovviamente all'ottanta per cento ha famiglia con figli quindi stiamo parlando di 40 mila persone che stanno cominciando ad avere difficoltà e nessuno ci sente e lo Stato non ci sta aiutando Francesco posso dire come giornalista auguri bocca al lupo e io la ringrazio spero che dopo questo rilancerò il vostro messaggio spero che con questo messaggio qualcuno realmente si muova qualcuno faccia qualcosa perché se no io spero che non volete vederci in piazza veramente perché noi siamo una categoria una categoria brava non vogliamo arrivare a questo non vogliamo fare come tre anni fa quattro anni fa come hanno fatti i taxisti noi vogliamo essere ascoltati e vogliamo che qualcuno ci dia una mano vogliamo lavorare sottolineiamo lavorare esatto ok grazie Francesco ciao grazie mille